Arrivano delle importanti novità per i servizi demografici del Comune di Gela. I cittadini, al momento del rilascio o del rinnovo della carta d'identità, dovranno esprimersi sulla loro volontà in fatto di donazione di organi e tessuti post-mortem. Le informazioni fornite dagli utenti saranno riportate nel quadro dei dati utilizzati nella procedura per l'emissione o il rinnovo del documento. Gli stessi dati saranno dunque fruibili e consultabili velocemente da parte del Centro di Coordinamento Regionale dei Trapianti. È una volontà che ognuno di noi deve esprimere quanto è sano di mente e quindi è stata data a disposizione di poter mettere questo dato sulla carta d'identità al momento della richiesta. Questo dato naturalmente verrà inviato al Centro Nazionale Trapianti e quindi se un giorno purtroppo bisognerà porre questa domanda, questa decisione è stata già presa a monte dalla persona che più di tutto ha diritto di disporre del proprio corpo, della propria vita, che è la stessa persona coinvolta, sollevando da grossi problemi effettivamente i familiari e i cari. Quindi è un atto che consente di poter aumentare le donazioni perché ricordiamo che donare è un atto d'amore, è un atto d'amore che salva molte vite umane. Salva molte vite umane e in Sicilia purtroppo rispetto alla media nazionale siamo di lunga e lontana a raggiungere le medie che ci sono in altre regioni d'Italia. Quindi a Gela in questo modo cerchiamo di poter finalmente aumentare la donazione però senza far pesare questo sulle persone care. Questa è stata una richiesta da parte dei cittadini soprattutto di alcune associazioni di volontariato come l'Admo che vivono tutti i giorni questi problemi e che vivono tutti i giorni queste criticità. Quindi sono persone che stanno dentro questa problematica. Il sindaco di Gela ha inoltre dato mandato ancora ai servizi demografici di avviare l'iter relativo al rilascio della carta d'identità elettronica ai cittadini che avrà efficacia anche come carta servizi. Può essere utilizzata anche come carta servizi, può essere utilizzata per tanti altri oltre ad essere più comoda, essere come una carta di credito praticamente ma consente di accedere ad altri servizi. È un nuovo strumento che sta iniziando in altri comuni e quindi ha dato mandato per poter vedere qual è l'iter da affrontare per poterla emettere pure nel comune di Gela.